Nel primo tempo dovevi mandare i titolari in campo e vincere la partita, 2-3-0 e poi mettevi a riserva. Gli investi che ha fatto nel secondo tempo li poteva fare giocare al primo tempo e man mano poi li toglieva, se pensa all'Europa League. Però ha dimostrato di essere incompetente per me. Forse troppo convinti della vittoria contro il Dinamo Mosca, sono entrati in campo un po' senza motivazione, dovevano mordere molto di più il campo, dovevano attaccare, aggredire, segnare, invece erano un po' troppo sulle proprie, non hanno fatto granché. La difesa noi non ce l'abbiamo proprio, ma no, sono più di due anni che non ce l'abbiamo proprio la difesa. La colpa è del Presidente, perché se tu dai della carne scadente a un cuoco, un buon brodo non lo farà mai. La difesa del Napoli è quella che è, perciò il Verona ha meritato. Basta, c'è niente da fare.